buongiorno amici benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video oggi proverò a fare qualcosa di nuovo nel senso proverò a fare giro in bici supportato dal treno quindi adesso mi dirigo in stazione e prenderò il treno che parte da Mestre in direzione Bassano a Grappa per dire la verità scenderò Cassola che l'ha formata precedente a Bassano che mi trovo con un amico che abitava nelle mie parti e adesso si è trasferito nella zona del Bassano a Grappa mi ha promesso un giro divertente quindi scopriamo assieme il giro e soprattutto scopriamo assieme quanto è facile o no, questo non lo so, è la prima volta di viaggiare in treno con la bici VAMOS! 709 qua c'è una raffa minario 12 il treno regionale provvedente dall'unico e divento a Velencia Santa Lucia delle ore 6 e 58 e in partico al binario 9 il treno regionale provvedente dall'unico e divento a Velencia Santa Lucia delle ore 6 e 56 e in partico al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale provvedente da Velencia Santa Lucia è diretto a Passano del Grappa delle ore 7 e 09 e in arrivo al binario 12 attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione allontanarsi dalla linea gialla Grazie per la visione 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 Moonlight dreamers Grazie per la visione 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 muuuu 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 video no mummukha io insomma che passi ma che la vedete mummukha mummukha sono tutti domandosi mummukha mi piace un video Muuuuh 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 Ed ecco a voi Eheh Ed ecco a voi L'ex sanatorio Di Collorio Igo Pensa che Questo Non sono mai passato a vederlo E ce l'ho salvato Dei tempi dell'urbex Tanta 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 roba Ma è un marzone Però Come non fermarsi a guardarlo Il primo amore non si scorda mai Sanatorio di Collorio Igo Questo era Uno dei sanatori per i malati di tubercolosi I can't play our favorite song Dancing, chillin' all night long With you Che figata Mancava un po' di urbex no? Solo per voi Fedelissimi Che mi seguite Dei tempi di urbex Silence Venezia Bei tempi Bei tempi Tentazione di entrare grande Però è tutto recintato Quindi Evitiamo altre Rotture Legali e burocratiche Un po' di urbex E' un po' di urbex Che figata Ma è un po' di urbex Bene Ritornato alla stazione di Cassola Ho fatto un bel giletto In compagnia di Leo E' Mi sono divertito Non sono stati tanti chilometri E neanche Tanto dislivello Nonostante ciò Se il video vi è piaciuto Lasciate il like Iscrivetevi al canale E ci vediamo Prossimamente con un altro video Tracce in descrizione Buona pererata a tutti